Aveva detto alla vigilia siamo pronti, ma mi sembra assolutamente no, sia per quanto riguarda il risultato che la prestazione. Alcuni giocatori, faccio tranquillamente anche i nomi, Brozovic ed Albert sono tutti, in queste condizioni io non li farei giocare neanche a briscola al circo. Dice anche il nome e cognome, come ti chiami? Andrea Antonietti? Dice anche il nome e cognome, perché così sanno la fata, perché sennò da casa sanno.